Mirta Merlino, il motivo della strana l'assenza. Fin dall'inattesa sostituzione di Barbara D'Urso a pomeriggio 5 la giornalista ex volto della 7 è stata al centro di numerose discussioni. In tanti sono convinti che non fosse lei la scelta giusta per il programma che è stato a lungo di Carmelita. Ora arriva un'altra assenza, oggi, venerdì 22 marzo, infatti Mirta non ci sarà. Al suo posto condurrà il programma Giuseppe Brindisi. E siccome non è la prima volta che Mirta Merlino è assente ecco che in tanti iniziano a fare paragoni scomodi, basti pensare, scrive ad esempio Tutto.tv, che, in 15 anni di servizio, Barbara D'Urso non si sia mai assentata neppure una volta dalla conduzione del talk show pomeridiano, mentre per Mirta sarà già la terza in meno di un anno. Per la cronaca Giuseppe Brindisi aveva già preso il suo posto sotto Sanremo con buoni risultati. Non solo non è la prima volta che Mirta Merlino si assenta da pomeriggio 5, ma il motivo che si cela dietro fa aprire nuove discussioni e polemiche. Secondo quanto riportato da D'Agospia, infatti, pare che la conduttrice si sia presa un weekend libero. Perché? La giornalista sarebbe sempre più insofferente per i dati flop della sua trasmissione, intorno al 16% di Cher. Ma c'è anche un altro motivo e cioè le voci sul suo possibile sostituto a settembre. Da questo punto di vista le indiscrezioni non si sono mai fermate. Già poche settimane Fabi ci scriveva, dite a Mirta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di Casa delle Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Mirta avvisata mezza salvata. E non è finita. Giusto un paio di giorni Fadagospia riportava. Pomeriggio 5 by Mirta Merlino prende costantemente schiaffi dalla vita indiretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli. Chi ha il suo posto? Stavolta il nome è quello di Cesara Buonamici. Inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La telegiornalista, già mezzo busto del TG5, conclude D'Agospia è stata testata in Salsa Pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura.